Non credo che lo scopo delle grandi aziende tecnologiche fosse quello di manipolare le persone o di danneggiarle. Ma ogni eccesso diventa dipendenza e l'algoritmo alimenta la dipendenza. La maggior parte di quelli che usano queste piattaforme non pensa di poterne diventare succube. È stato progettato appositamente per questo. Un inserzionista vi vede come il prodotto finale della sua pubblicità e non propone solo qualcosa da comprare, ma vi indirizza verso un'ideologia. L'ospite di oggi è Nick Genki, direttore relazioni esterne del social media video indipendente Ganjin World. Parliamo dei criteri di programmazione degli algoritmi usati da big tech, progettati per creare dipendenza. Noi lo chiamiamo wormhole. A te sembra siano trascorsi solo 5 minuti, ma invece è passata un'ora. Può creare una spirale di dipendenza, che si autoalimenta e rafforza le tue convinzioni. Ti illudono di essere più informato, ma in realtà gli algoritmi sono concepiti per polarizzare, per dividere le persone. Nick, benvenuto. Grazie. Tu sei un imprenditore tecnologico. Parliamo di cosa sta accadendo con big tech in California. C'è tutta una nuova normativa che regolamenterà il settore delle grandi tecnologie. Puoi parlarcene? Sì, l'ho letta. È molto interessante. Abbiamo scoperto che la tecnologia ha il potere di innescare la spirale della dipendenza. BJ Fogg, professore di Stanford, dice che l'opposto della dipendenza è la connessione. Più avanti affronteremo l'argomento per trovare alcune soluzioni a questi problemi. Ma, in sintesi, l'obiettivo di questa norma è regolamentare i social media e queste piattaforme che causano dipendenza. E causano problemi di autostima, di traffico di droga e di armi. Insomma, dentro c'è di tutto. Qui, la questione è regolamentare questi aspetti in modo specifico per i minori. È un impegno di entrambi i partiti, i repubblicani e i democratici, che stanno subendo reazioni molto dure da parte di Big Tech. Tu hai lavorato in questo settore. Puoi parlarci di cosa succede dietro le quinte di queste grandi aziende tecnologiche? Prima di tutto, queste aziende fanno un sacco di soldi. Questo lo sappiamo tutti. E sono costantemente orientate al progresso tecnologico. Io penso che ci siano un sacco di persone fantastiche in questo settore. C'è Sam Harris, il capo di OpenAI, che crede che nell'introdurre queste cose nella società sia meglio gestirle apertamente ed evitare il più possibile la regolamentazione. E poi c'è Tristan Harris, che ha fondato il Center for Humane Technology, la cui idea è che gli esseri umani siano entrati in contatto con un alieno. Io sono cresciuto negli anni 90 e non avevo il cellulare. Queste cose sono state introdotte nella società solo da 20 anni. C'è voluto un po' per arrivare a questo. Non credo che l'intento fosse di fare del male. Penso che questo sia importante da notare. Non credo che queste grandi aziende tecnologiche abbiano iniziato dicendo «Adesso manipoliamo le persone». Penso che sia successo come conseguenza degli algoritmi e della recente comprensione del funzionamento delle dipendenze. Certo, ci sono anche aspetti positivi. Noi stessi andiamo su YouTube. Ma parlaci meglio delle dipendenze. Come funzionano? Certo, questo aspetto era ignoto all'inizio. Poi hanno iniziato a sviluppare un algoritmo che lavorasse sulla risposta della dopamina, che dà una sensazione di gioia. Quando si fa attività fisica, si produce serotonina. Quando abbiamo una buona conversazione, può essere rilasciata l'ossitocina. Ci sono diversi recettori biochimici nel cervello. E hanno scoperto che, se si dà alle persone un ciclo costante di dopamina, che è quello che succede nei videogiochi e dei social media, si aumenta la dipendenza da essi. È chiamato loop di dipendenza. È una specie di scroll infinito, del tipo, più rispondi a un certo contenuto, più te lo somministro. Un esempio può essere un contenuto violento. Supponiamo che tu stia guardando molti contenuti violenti. L'algoritmo se ne accorgerà e ti darà sempre più contenuti violenti. In questo modo, si crea con la tecnologia una dipendenza alla violenza. Per i ragazzi, si possono facilmente immaginare problemi di autostima. I punteggi di felicità generale in tutto il mondo sono diminuiti da quando i social media sono diventati importanti. È questo il problema da risolvere. E questa proposta di legge affronta proprio il problema della dipendenza. Perché queste tecnologie possono avere un impatto su di noi? Fai un esempio. Sì. Mentre le usiamo, non sappiamo cosa stiamo facendo. E dietro le quinte, probabilmente ci sono... Allora, una volta che hai un pregiudizio, l'algoritmo continua a concentrarsi su quel pregiudizio, mantenendo ristretto il tuo orizzonte. In teoria, dovremmo andare sui social media per sentire opinioni diverse. Ma ormai abbiamo tutti visto che è il contrario. Sta diventando tutto sempre più polarizzato, non meno. Poiché ci sono molte informazioni, queste vengono utilizzate per polarizzarci. E a farlo sono gli algoritmi. Così diventiamo di mentalità ristretta. Stiamo diventando sempre più mentalmente chiusi, non aperti. Al punto che si odia a morte una persona senza nemmeno averci mai parlato. Quindi l'apertura del dialogo è diminuita, non aumentata, a causa dell'informazione. Quindi l'impatto sui bambini sarà enorme, perché se una cosa piace loro molto, allora andranno in quella direzione e non vedranno nient'altro. Sì. E sono troppo giovani per capirlo. Esatto, esatto. È piuttosto scioccante. In queste aziende c'è gente seduta a discutere per trovare il modo per convincere più bambini a guardare questa roba? Ci sono delle strategie dietro le quinte? Direi che è ovvio che ci siano, ma io non direi necessariamente la parola bambini. Non credo che queste aziende siano focalizzate sui bambini. Io penso che loro la vedano solo in termini di guadagno. Ci sono solo due settori in cui si usa la parola user, utente. Uno è il farmaceutico, l'altro è il tecnologico. Quindi sei uno che fa uso dei social media e uno che fa uso di farmaci. Non c'è nessun altro settore che usi questa terminologia. Quindi, per queste piattaforme, credo sia evidente, e questo è il mio punto di vista, che vostro figlio è il prodotto. Quindi la pubblicità arriva a vostro figlio e l'algoritmo deve funzionare in modo da dire «Ok, più loro stanno attaccati a un argomento, più noi possiamo mandare loro pubblicità». È così che funziona, attualmente. Dici che i bambini sono il prodotto. Cosa significa? Perché la maggior parte di noi, quando usa queste piattaforme, non pensa di poter essere il prodotto. Sì, è una questione di percezione. Bisogna pensare al modo in cui viene monetizzato, vederla dal punto di vista degli inserzionisti. Loro non fanno pubblicità su una piattaforma priva di una base di utenti. Un inserzionista vede in voi il prodotto finale della sua pubblicità, ovviamente. Quindi l'idea è che l'utente prima va sul social e poi viene incanalato da qualche altra parte per acquistare qualcosa. Questo diventa pericoloso se non venite incanalati solo a comprare qualcosa, ma venite incanalati verso un'ideologia. E penso che questo sia successo in molte elezioni. E non parlo di partiti politici. Più che altro è una questione di destabilizzazione della democrazia. Ed è qui che i social media possono essere molto potenti, perché possono indottrinarti in base alla tua stessa ideologia. Fanno da cassa di risonanza e indottrinano in un circolo vizioso di dipendenza che rafforza le convinzioni. In pratica, si tratta di un algoritmo di conferma. Se guardo video di gatti tutto il giorno, tutti i miei amici sui social media sono persone che guardano video di gatti. Per cui sviluppiamo questo pregiudizio di conferma che i migliori video del mondo siano quelli di gatti, per esempio. Immaginate questo applicato ai contenuti negativi che indottrinano certi microgruppi. E la cosa diventa assolutamente spaventosa. E molto rapidamente, perché si usa la base stessa della biologia umana. E qui torniamo ai bambini. Se si tratta di adulti che possono fare le loro scelte, io stesso ho eliminato i social media per circa cinque anni. Sto iniziando a tornarci ora per necessità. Quindi io non ne ho visto i vantaggi. Se voglio vedere le foto dei miei cugini, guardo il Facebook di mia moglie. Quindi io ho sentito gli effetti negativi e riesco ad autoregolarmi. Ma un adolescente può autoregolarsi? Assolutamente no. E l'algoritmo alimenterà il suo comportamento di dipendenza. Funziona così. Quindi io non credo che ci siano necessariamente delle persone sedute in una stanza a cercare di manipolare le masse. Tutto questo avviene dietro le quinte in base all'input dell'utente, chiamiamolo così, umano, alla tecnologia. Quindi anche gli adulti sono messi alla prova. Possono restare attaccati a certi contenuti e possono odiare persone che hanno un'altra opinione. E per questo è chiamato wormhole. Per analogia con la fisica, un cunicolo spazio-temporale, una cosa che ti risucchia come un buco nero. Noi diciamo wormhole quando si guarda qualcosa per molto tempo e si viene letteralmente risucchiati dal contenuto. E sicuramente è successo alla maggior parte delle persone che stanno guardando questo video. Siete su Facebook, su un social e vi sembrano passati 5 minuti. Poi guardate l'orologio ed è un'ora, un'ora e mezza. Lo fissi, tiri succhia e non riesci a fare altro che guardare e guardare. È progettato apposta. Per fare questo? Sì. E l'aspetto morale di tutto questo? Io mi immagino che molti imprenditori tecnologici siano entrati in questo settore, sia per la passione per la tecnologia, che per dare una voce alle persone. E in generale la gente ora ha accesso a un pubblico. C'è qualcuno dietro le quinte che si preoccupa della moralità? Lo vorrei sperare. Credo che questo aspetto stia diventando sempre più importante. La chiave è come cambiare il modello di business. Ma ci sono nuovi social che stanno nascendo. Io penso che la questione non sia necessariamente come cambiare le cose internamente al mercato, ma come creare nuovi prodotti e servizi che si adattino realmente alle esigenze delle famiglie. Ed è qui che entrano in gioco piattaforme come Ganjin, che in cinese significa pulito. È stata creata da programmatori consapevoli, cinesi, che hanno vissuto la persecuzione e che hanno deciso di fare una piattaforma social di video e blog aperta a tutti, adatta alle famiglie e che si basi su premesse di moralità. Da un punto di vista tecnologico, in generale, io credo che ora tutti all'interno di queste organizzazioni capiscano il problema della morale e che si stiano pentendo di cosa hanno fatto. E poi, in un mercato libero, ci sono nuove opportunità per le aziende tecnologiche che possono emergere ponendosi come bandiere degli standard dei contenuti adatti alle famiglie. Quindi, in sostanza, voi in questa nuova piattaforma regolate il tipo di contenuti? Assolutamente sì. Ganjin World è una piattaforma video come tutte le altre. Ora abbiamo anche lo streaming e una creator economy che permette di creare contenuti e guadagnare. L'idea è che, a volte, per capire una certa cosa, è necessario capire cosa non è. Noi cataloghiamo in generale tutti i tipi di pubblico e selezioniamo i contenuti adatti alle famiglie. Su Ganjin World non c'è violenza, non ci sono attività criminali, non c'è nulla di dannoso e non ci sono contenuti erotici. E poi c'è un angolo per i più piccoli con scopi educativi che è stato creato appositamente per far sì che i bambini imparino davvero. Io stesso sono un genitore, ho una figlia di 9 anni, e pensare che a 13 anni possa andare sui social media mi terrorizza. È una cosa che tutti i genitori affrontano. Si vedono gli effetti sulle ragazze e sui ragazzi che si guardano allo specchio e si sentono male a causa dei messaggi veicolati dai social. Per questo io credo che sia molto importante sapere che c'è un posto del tutto sicuro su internet, che non ti porta in un tunnel di dipendenza negativa senza che tu te ne accorga. Il peggio che può succederti è vedere troppi video educativi e diventare dipendente dal tuo stesso miglioramento personale. Io direi che c'è di peggio. E come ti trovavi a lavorare nel settore tecnologico? Come vivevi questi problemi? Temevi che avrebbero avuto un impatto sulla tua famiglia e sulle famiglie degli altri? Assolutamente. E ho ancora delle aziende tecnologiche. Sono un imprenditore e cerco di integrare il benessere in tutto quello che facciamo. Per questo sono il portavoce e il responsabile delle relazioni esterne di Ganjing, che parte da una premessa corretta. Quindi, per me, quando si parla di tecnologia, si tratta di capire che non si può avere la tecnologia nel vuoto come in un diagramma di Venn. A mio parere, la tecnologia deve sovrapporsi all'istruzione. Ma possiamo chiamarle semplicemente cose che migliorano l'intelletto, o lo spirito umano, cose edificanti. Quindi l'idea è, va bene, io sono un consumatore di questo contenuto, ma per me è edificante. Un'altra componente è l'aspetto del benessere. Mi piace l'idea che le aziende tecnologiche integrino il benessere nella loro missione principale. E la missione di Ganjing è quella di creare una comunità vibrante e positiva senza altre influenze. Qui il concetto è, noi, come cultura umana, dobbiamo capire che abbiamo avuto il nostro primo incontro alieno con i social media e la tecnologia. E non è andato bene. Abbiamo perso noi. Come dice Tristan Harris, i social media e gli algoritmi hanno vinto. E hanno vinto solo grazie all'effetto della dopamina, che fa parte del sistema limbico, alla base del cervello. Non siamo nemmeno a livello del ragionamento superiore. Non so se conosci lo studio di Red Park. In pratica, Red Park era un esperimento su dei ratti in cui c'era, credo, dell'acqua con cocaina che veniva lasciata fuori. Un certo ratto andava sempre a bere l'acqua addizionata di cocaina. Gli facevano fare cose diverse, ma questo ratto andava sempre a cercare la droga. E come cura hanno scoperto che dovevano far entrare i suoi amici ratti. Mischiando il topo tossicodipendente con i suoi altri amici topi, a lui non importava più della droga. B.J. Fogg insegna questo a Stanford, spiegando che l'opposto della dipendenza è la connessione, la relazione. Quindi, a prescindere da tutto, come umanità, dobbiamo usare la tecnologia a fin di bene. Dobbiamo usare l'intelligenza artificiale per il bene. Tutto quello che facciamo deve essere per il bene e la moralità dell'umanità. Questo è il punto di partenza di tutto quello che stiamo costruendo. Quindi l'attenzione è rivolta alla moralità e all'impatto sull'utente. Perché attualmente il problema sembra essere che i sistemi funzionano, ma non si pensa a cosa succederà all'utente. Sì. Dopo o tra dieci anni. Sì, e smettiamo di chiamarlo utente. L'umano, il discente, la persona che è lì per imparare, per migliorare se stessa o semplicemente per rilassarsi. Un po' di evasione è salutare, ma tutto ciò che è eccessivo genera dipendenza. Tornando alla legge, penso che si voglia capire perché una certa cosa è negativa. E questo è l'approccio giusto. Quello che mi piace di Gunging World è che ricategorizzerà tutto. E ci sarà una categoria chiamata semplicemente consapevolezza. È una delle prime applicazioni di social media ad avere una categoria sulla consapevolezza, al di fuori delle applicazioni specializzate. Il messaggio è, per essere un essere umano e equilibrato, non puoi limitarti a una cosa sola. Ci deve anche essere un po' di meditazione, di rilassamento, e questo fa parte della piattaforma principale. Quindi c'è una varietà di contenuti, ma l'enfasi è sull'avere uno standard morale di base. Sì, e se ci sono materie controverse, l'idea è di mostrare entrambe le posizioni, purché non vadano contro le quattro regole principali. Quali sono queste regole? In sintesi, niente violenza, niente attività criminali, niente di dannoso e niente di erotico. Ma è permesso avere qualsiasi conversazione? Sì, si possono avere conversazioni di tutti i generi. Sì, assolutamente. E l'intelligenza artificiale che ruolo ha in tutto questo? Nello spazio dei social e in generale nelle nostre vite? L'intelligenza artificiale avrà sicuramente un ruolo nei social media e nelle nostre vite. C'è un serio dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e credo che questa sia la cosa più importante. Elon Musk è un grande sostenitore dell'interruzione di questo esperimento pubblico con cose come ChatGPT4. Microsoft ha investito 11 miliardi in OpenAI e se si accede a Windows 11, ora si è accesso libero a ChatGPT4. La cosa interessante è che ci sono cose che può fare che ancora non capiamo, cioè non abbiamo capito a pieno, a livello di società, cosa sia essenzialmente. Ed è qui che la cosa diventa un po' pericolosa. Puoi farci un esempio? Sì, alcune cose sono tipo, dimmi come costruire una bomba spendendo un dollaro a Walmart. Stanno iniziando a capire che non va bene fargli dare simili risposte così facilmente quando ci sarebbero voluti mesi di ricerca per arrivare a sapere questa cosa. L'intelligenza artificiale non ha un criterio di valutazione morale, quindi stiamo cercando di imporre una morale umana a qualcosa che intrinsecamente ne è priva. E per realizzare questo perfezionamento dobbiamo diventare molto più sofisticati nella progettazione. Queste cose devono esistere per il bene dell'umanità, naturalmente. Non si può avere una cosa capace di insegnare istantaneamente a fare una certa cosa a ogni essere umano sul pianeta. È necessario che ci siano delle norme di sicurezza. Una corrente di pensiero è, se la rendiamo pubblica, abbiamo il tempo di reagire. Se invece diventa troppo potente e sottotraccia, e poi viene rilasciata, diventa una bomba atomica. Quindi ci sono entrambi i lati, e io sto valutando entrambi i lati. Ho dei progetti in cui sto integrando l'intelligenza artificiale in un ambito molto di nicchia, specifico per una funzione di apprendimento. Io in pratica sto mettendo dei paletti, e credo che questa sia la chiave, ora che i guardrail non ci sono e la si può usare per qualsiasi cosa. Potrei fornire molti esempi di uso di intelligenza artificiale. Guardiamo gli algoritmi di base. L'algoritmo di un motore di ricerca non è un'intelligenza artificiale, e se quell'algoritmo potesse essere usato per la comprensione e non per la manipolazione, in modo da poter capire qualcuno a un livello molto profondo, per esempio capire se uno studente, un bambino, abbia un disturbo dell'apprendimento. Si potrebbe comprendere a pieno questa persona, quello che sta passando durante l'apprendimento di questa materia, e avere un'alternativa in pochi millisecondi. In questo modo è possibile personalizzare la loro esperienza formativa? Sì, credo che questo sia il vantaggio più grande per noi esseri umani, essere in grado di personalizzare completamente e potenziare le cose che possono renderci grandi. Secondo me il punto di partenza dell'intelligenza artificiale deve essere l'uso che se ne fa. Penso all'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, che si basava su un uomo chiamato Vitruvio, morto credo circa 1500 anni prima di Leonardo. Vitruvio, che era un architetto, diceva che tutto ciò che costruiamo nella società da un punto di vista architettonico, ma io penso che questo si applichi alla tecnologia, deve avere un'utilità, deve essere longevo e deve elevare lo spirito umano. Quindi, qualunque cosa realizziamo con la tecnologia, deve avere un'utilità umana, deve durare nel tempo e deve elevare l'intelletto o lo spirito umano. Si tratta di affrontare la questione da un'angolazione diversa. Se dovessi dare un consiglio rispetto all'intelligenza artificiale al legislatore, ora che sta intervenendo sui social per eliminare o individuare i fattori di dipendenza, quale sarebbe? Devo riflettere su questo aspetto specifico. Io sono ancora in fase di apprendimento. È uno strumento nuovissimo. Si evolve molto velocemente. GPT-4, che è l'azienda di OpenAI, è passata dalla versione 3.5 alla 4 in pochi mesi. Quindi le iterazioni ora avvengono in pochi giorni. La curva esponenziale di miglioramento. I migliori esperti del settore, che ne sanno molto più di me, pensavano che l'iterazione sarebbe stata più lenta del 75% rispetto a quanto è in realtà. Quindi anche per gli addetti ai lavori è sconvolgente. Per cui, ora dobbiamo solo capire. Penso che ci debbano essere casi d'uso e barriere di sicurezza, soprattutto per i bambini. Credo che questa sia la preoccupazione più grande. Da adulti si ha accesso a questi strumenti e ci si può autoregolare. Ma un bambino non ha la capacità di autoregolarsi. Se do a mia figlia la possibilità di bere Sprite tutto il giorno o acqua minerale, quale sceglierà? Quindi credo che il punto sia capire la biologia umana e poi, come genitori, imporre dei limiti. È qui che, in quanto genitori, si deve essere più coinvolti e capire davvero cosa sta succedendo. Se ora avete Windows 11 e avete accesso a ChatGPT4, avete uno strumento che va ben oltre i social media in termini di potenziale manipolativo. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Io non ho una risposta su come regolamentare questo aspetto. Se no, che si tratta di qualcosa che deve essere seriamente... Devono occuparsene subito, prima che sia tardi. Non fra dieci anni. Sarebbe troppo tardi. Hai qualche consiglio per il nostro pubblico? Sì, il mio consiglio per il pubblico è da genitore. Ovviamente ci piacerebbe che andaste a vedere Gunging World. Il nome del sito web è semplicissimo. È solo gunging.com. Sì, abbiamo un link. Per me si tratta di insegnare che questa è una cosa che crea dipendenza, che è l'azione di consumare la tecnologia, non solo il contenuto, ma anche il semplice stare sul social in sé può creare dipendenza. Quindi, penso che i genitori debbano dire «Ok, che cosa vuoi fare nella vita? Cos'è importante per te?» Ripeto, si deve creare delle barriere di sicurezza e capire per cosa si vuole usarlo. Quindi, magari sedersi con i propri figli quando avranno 13 anni e accederanno ai social media e aiutarli a capire come usarli. Spiegare ai ragazzi che i contenuti creano dipendenza, che l'algoritmo che li fa apparire è concepito apposta per questo. E spiegare come funziona la scarica di dopamina. Ma soprattutto devono capire che devono regolare il proprio carattere. Devono vivere secondo le virtù insegnate nella propria società, qualunque esse siano, cosicché poi dicano «Io sto alla larga dai social in sé stessi. Io voglio essere un'infermiera, quindi guarderò solo contenuti infermieristici o cose che hanno a che fare con l'aiutare le persone». Quindi, sapendo che è stato progettato per darti cose che ti piacciono e che devi stare attento a quanto puoi ricevere. Sì, sì. Utilizzalo in modo che sia vantaggioso per te, non per il social. Esatto. Io, ora che sto tornando sui social media, ricevo tutti i tipi di video strani, perché i miei algoritmi sono nuovi. Io scorro oltre e li ignoro semplicemente. Da qui in poi, l'algoritmo funziona sulla base dei miei interessi. Siccome sono io che scelgo contenuti che hanno un valore morale, l'algoritmo allora mi aiuta, accelerando la visualizzazione di contenuti allineati ai miei scopi. Ma sono io che innanzitutto devo avere un certo scopo. Quindi devi fare attenzione a non guardare molti contenuti negativi, come l'odio. Più tu ne vedi, più lui te ne passa. Esattamente. Hai qualcos'altro per il nostro pubblico? Sì, io direi, se c'è, usatela. Se questa intelligenza artificiale diventa disponibile, giocateci un po'. Con la tecnologia si possono fare solo tre cose. Si può ignorare, si può cercare di fermarla o distruggerla, oppure si può cercare di metterci del buono. Per cui, se c'è, per me le persone buone dovrebbero cercare di usarla per il bene dell'umanità. Nick Jenneke, responsabile relazioni esterne di Gunjin World. È stato un piacere averti a California Insider. È stato un piacere, grazie a te.